Contiene il 40% dell'acqua dolce d'Italia. Stiamo parlando del lago di Garda, il cui livello scende in questa implacabile estate un paio di centimetri al giorno, eguagliando le misure del famigerato 2003, che prima di questo 2017 era l'anno indicato per antonomasia in termini di temperature elevate e scarsità di precipitazioni. L'acqua del Garda è utilizzata per produrre energia, ad uso turistico, ecologico, potabile, irriguo ed anche per la navigazione. I battelli per il trasporto pubblico, ad esempio, non possono attraccare nei porti quando il lago è troppo basso e le spiagge si trasformano in pietraie. Preoccupati gli operatori turistici della riva scaligera del più grande bacino idrico del paese, con l'acqua che si surriscalda, favorendo la proliferazione di alghe a danno dell'habitat lacustre. Un altro aspetto cruciale riguarda il prelievo di acqua per l'erogazione nel fiume Mincio a scopo irrigazione attraverso la diga di Salionze, ridotta sensibilmente per volontà dell'Agenzia Interregionale dell'Autorità di Bacino del Po, ente governativo deputato alla regolamentazione dei prelievi. A proposito del fiume più lungo d'Italia, il Po appunto, parliamo di oltre tre metri sotto il livello idrometrico, a cui non hanno potuto fornire un significativo recupero le precipitazioni della seconda metà di luglio. Intanto il Veneto, con Piemonte e Lombardia, ha sottoscritto a Parma, nell'ambito della riunione dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del distretto del Po, un documento in cui le regioni interessate si impegnano fino al 3 agosto a prelevare il 5% dei quantitativi di acqua concessi ad uso irriguo dagli affluenti alla sinistra del fiume. Dal 31 luglio seguirà l'Emilia Romagna, che pesca direttamente dal Po e con il Veneto è minacciata dal cosiddetto cuneo salino, ovvero la risalita di acqua dal mare nel fiume indebolito dalla siccità, con il rischio di salinizzare i campi e le falde.